Buongiorno a tutti da Stefano Carrara di Linus, è un piacere avervi con noi anche oggi, sono le due e mezza, partiamo con i nostri lavori di oggi, come sempre in avvio di webinar chiedo a tutti coloro che sono collegati di darmi riscontro sul fatto che si sente in maniera corretta la mia voce e che si veda anche il mio schermo. Verifico immediatamente, prima di partire mi arrivano degli ok, sembra che tutto sia a posto. Bene, allora partirei immediatamente con i lavori, ricordando le consuete regole che utilizziamo per gestire i nostri webinar, ovvero che è possibile fare delle domande utilizzando la chat che noi vediamo, in alcuni casi risponderemo in diretta oppure risponderemo a fine webinar, se la domanda è particolarmente articolata non la lasceremo comunque in evasa e se richiede una risposta articolata vi contatteremo, vi scriveremo una mail, insomma in qualche modo vi daremo una risposta. Io partirei intanto ringraziando il nostro importante ospite di oggi che è il dottor Luciano Tarantino che dovrebbe essere collegato. Luciano ci sei? Sì ci sono, buongiorno a tutti. Buongiorno Luciano, grazie infinite per essere con noi oggi, ti chiederei di fare una tua presentazione per tutti coloro che ci stanno ascoltando. Sì grazie, buongiorno. Allora io sono un commercialista iscritto all'ODEC di Milano, mi occupo fondamentalmente ormai di crisi d'impresa, dell'anno abitamento, di riorganizzazione aziendale, operazione di M&A, questi sono gli ambiti che ormai riservo per la mia professione. Grazie. Ottimo, grazie, grazie a te. Io ti solleciterò nel corso della presentazione chiedendoti un po' di cose, chiedendoti aiuto sul chiarire alcuni concetti. Oggi parliamo di analisi di bilancio però non affrontiamo il tema in senso ampio ma lo facciamo in maniera un pochino tecnica, un pochino focalizzata. Cosa vuol dire? Vuol dire che andiamo a vedere il tema dell'analisi di bilancio quando ci troviamo di fronte ad una difficoltà operativa che penso molti di voi abbiano affrontato, ovvero come faccio a fare un'analisi di bilancio quando il mio punto di partenza non è un bel bilancio, sembra una contraddizione in termini ma è un piano dei conti valorizzato, un bilancio di verifica oppure un documento contabile che ha una struttura leggermente diversa o molto diversa da quella tipica del bilancio a cui siamo abituati. Naturalmente con l'obiettivo di creare anche un po' di contesto abbiamo anche toccato alcune applicazioni fatemi dire dell'analisi di bilancio su una tematica di cui si parla molto e che è in fase di probabile ritrattazione anche alla luce degli eventi drammatici di questi giorni che è l'applicazione del codice della crisi, quindi alla fine anche gli indicatori del codice della crisi che fra qualche minuto vediamo e commenteremo insieme a Luciano Tarantino sono il frutto di elaborazione di dati contabili e anche in quel caso come vedremo devono essere calcolati spesso e volentieri su dei dati contabili non proprio strutturati in formato civilistico. Andiamo poi a vedere alla fine come va analizzato il dato contabile, come si fa a tirare delle somme perché l'analisi è sempre un mezzo, ricordiamoci che il fine è quello di andare a valutare per diverse finalità il bilancio di conseguenza dell'azienda sottostante allo stesso. Io partirei andando un attimino a parlare della riclassificazione, quindi come si fa a riclassificare un piano di conti e quali schemi riclassificati scegliere. Allora intanto cerchiamo di accordarci sui termini. Riclassificare cosa vuol dire ai fini dell'analisi di bilancio? Secondo noi vuol dire andare a convertire, a ristrutturare una qualsiasi fonte di natura contabile naturalmente in altri schemi, in altri schemi che si spera siano schemi più adatti rispetto a delle elaborazioni. Quindi potremmo avere casi in cui devo riclassificare un bilancio di natura civilistica e anche lì sapete che non tutti i bilanci civilistici sono uguali, altri casi in cui dobbiamo riclassificare un piano dei conti valorizzato e la struttura di quel piano dei conti dipenderà dal software che adotta l'azienda pur seguendo naturalmente delle regole generali che sono stilate per singolo paese oppure potremmo anche trovarci a dover riclassificare e valutare dei bilanci provvisori. In alcuni casi e in particolare avviene con il mondo bancario e con il mondo di chi si occupa di finanza per investimenti, quindi finanza medio e lungo termine. Una delle ultime novità, fatemela dire così, sull'analisi di bilancio è che si tende a prendere i business plan che si ricevono dal mercato, quindi il business plan dell'azienda che vuole un finanziamento o che vuole un leasing o che vuole fare un investimento, lì si riclassifica e si crea una propria base dati di bilanci classificati che hanno un grandissimo valore interpretativo. Da ultimo c'è anche il caso sempre più frequente di dover andare a guardare dei bilanci stranieri e noi Luciano stando in Europa penseremmo che tutti i paesi possono avere delle stesse regole, in realtà non so la tua esperienza cosa ti dice non è sempre così, mi conforta perché ti pongo questo esempio sul mercato spagnolo, quando una società ha un debito per leasing, quel debito sempre e comunque è inserito nel passivo e il corrispondente attivo lo trovo tra gli attivi. In Italia, come tu mi insegni, è così solo se la società è uno IAS Adopter o comunque utilizza gli FRS 16. Quindi su questo che stiamo vedendo adesso in slide mi piacerebbe avere un tuo commento se sei d'accordo sull'impostazione e anche sulle definizioni soprattutto. Sì, certo, assolutamente d'accordo, naturalmente. L'esigenza di riclassificare è sicuramente attuale perché il bilancio civilistico, diciamoci, per tutte le cose con cui dobbiamo lavorare oggi sul bilancio non è più attuale. Ricordiamoci che il bilancio civilistico inteso come inteso è estremamente datato e le aziende che noi trattiamo sono aziende di diversa natura. Pensate alle aziende che non hanno un bilancio, che hanno un bilancio semplificato, per esempio, per non parlare, come hai detto tu, delle aziende straniere, per non parlare della stessa azienda che un anno mi fa il bilancio secondo gli O.C. e l'anno dopo mi secondo gli FRS. Quindi ritengo assolutamente indispensabile la riclassificazione. Chiaro. Nel caso della stessa azienda che cambia la struttura del bilancio che emette o che deposita, lì direi che è quasi obbligatoria la riclassificazione, altrimenti si perde continuità. Certo, assolutamente sì. Non si capisce. Ma questo l'abbiamo anche vissuto quando è entrata in vigore la riforma dei bilanci del 2016, se ti ricordi, e venne abolita la gestione straordinaria nel bilancio civilistico insieme, ad esempio, ai conti d'ordine. È chiaro che chi fa analisi storica per almeno due, tre o quattro anni, quindi ancora oggi, si trova nella condizione di dover trovare un comune denominatore dei bilanci storici e quindi non può usare il civilistico semplicemente perché in quel caso lì è sparita la gestione straordinaria. C'è la voce a cinque, però se uno la trattava in un modo prima deve anche trattarla nello stesso modo adesso e se lo schema è diverso è un problema perché poi ti influenza tutti gli indici, tutte le lavorazioni. Allora, per dirla ancora più in maniera completa, se vuoi, mi stai giustamente sollecitando. Per chi si occupa di M&A, per chi si occupa oggi, cioè tutti, di crisi di impresa, diciamo che non possiamo aspettare un anno o, peggio ancora, 14, 15, 16 mesi per avere un documento sul quale applicare gli indici, qualsiasi essi siano. Quindi dobbiamo assolutamente lavorare sugli infranuali. E se lavoriamo sugli infranuali e vogliamo dargli una paridignità, se in passata questa espressione, naturalmente l'unico concetto che possiamo utilizzare è quello della reclissificazione. Chiarissimo, chiarissimo. Perché riclassifichiamo? Un po' l'abbiamo anticipato, no? Io ho parlato prima di codice della crisi, il codice della crisi prevede degli indicatori che hanno una base di calcolo ben definita, che come vedremo fra un po' è rappresentata dalle voci civilistiche del bilancio. A loro volta le voci civilistiche seguono delle logiche ben precise che sono quelle degli organismi contabili, dell'ufficialità e quant'altro. Quello è uno però dei casi. Si riclassifica, come diceva Luciano, anche per esempio in ottica di M&A, in ottica di investimento. Allora il vantaggio che ci dà la riclassificazione di un qualsiasi dato contabile o bilancio è che ci fornisce un unico modello di analisi. Nel momento in cui io riesco a riconvertire dei dati che non sono omogeni tra loro o che sono omogeni per aziende, ma diversi per aziende diverse, quindi se devo confrontare un'impresa italiana e una spagnola, io dovrò utilizzare un modello di analisi che quel leasing lì, benedetto, me lo tiene o sempre dentro nel passivo oppure me lo toglie dal passivo. Altrimenti rischio di fare un confronto che non è corretto dal punto di vista contabile, ma prima ancora lo è dal punto di vista logico. Quando conseguo e riesco ad avere un unico modello di riclassificazione, a questo punto ho una serie di vantaggi. Primo perché sceglierò un modello che sarà più funzionale al mio tipo di analisi. Se il mio obiettivo è aiutare l'azienda o capire rispetto ad un'azienda se per esempio sono una banca o un professionista, qual è il livello di break even, il punto di pareggio e ahimè questo è un tema molto attuale visto quello che sta accadendo, visti i fatturati importanti che le aziende stanno perdendo, ecco che allora farò una riclassificazione del conto economico dove i costi li vado a riclassificare per natura per esempio, dove mi interesserà andare a distinguere tra costi fissi e costi variabili. Perché? Perché questo mi permette di calcolare il teorico punto di pareggio e fare delle valutazioni sull'azienda. Altrimenti rischio di mettere una forma triangolare in uno stampo che è rotondo, quindi la cosa non funziona. Quale sia poi il modello più idoneo da scegliere, questo dipende dagli obiettivi del professionista. Noi naturalmente a livello di piattaforma Linux ne abbiamo diversi, ce n'è uno che comanda sugli altri, però per noi è quello che conta è quello che ha in testa il professionista e come lui vuole gestire e riorganizzare i dati. Qualsiasi software utilizzati, che sia Linux, che sia Excel, che siano altri, l'importante è che quella struttura sia funzionale agli obiettivi dell'analisi. Su questo, Luciano, io farei un passo avanti e andrei a vedere insieme un esempio che già abbiamo toccato in parte in un'opera del 13 di marzo, che è quello proprio del codice della crisi. Allora, il codice della crisi, che sapete di quanti voi, sei in giardino, bravissimo come me, è entrato in cuore da molto tempo, ormai da un anno erotti, e prevede un'applicazione scaglionata nel tempo delle sue parti. Per quanto riguarda gli indicatori, sono stati, come dire, è stato richiesto all'ordine dei specialisti di stabilirli, di scriverli. Qua li vediamo, noi i famosi sette indicatori, li abbiamo definiti anche i magnifici sette, noi in altri contesti, e come si vede dalle formule che sono lì indicate sulla destra, gli indicatori previsti sono indicatori che necessariamente richiedono una riclassificazione civilistica. Ecco qua, Luciano, mi interesserebbe capire da te qual è stata un po' la genesi di questi indicatori e come poi voi che vi occupate anche di crisi li gestite rispetto al piano dei conti. Allora, cercherò di essere il più obiettivo possibile. L'indicatore, come tu ben sai, è uno, no? Il DSCR, cioè la capacità che ha l'impresa di supportare i flussi nei prossimi 6-12 mesi. 6 mesi è risultato minimo, 12 è risultato ottimale. Naturalmente si dice anche il tipo di imprese al quale vanno riferiti, cioè praticamente la piccola impresa, non è spesso in grado di saperli calcolare o perlomeno non ha tutti gli elementi in linea per poterli calcolare in tempo ragionevole. Quindi, in alternativa, si vanno a usare, in aggiunta, lasciatemi dire, si vanno a usare degli indicatori che sono poi di fatto di natura molto più statica rispetto al dinamico, alla dinamica analisi dei flussi. Il tutto, quindi, alla fine dei conti, si dice, ok, prendiamo l'analisi, il DSCR non riusciamo a calcolarlo, anche se, devo dire, il 6-12 aiuta molto anche il tipo di imprenditore inserendo alcune informazioni a calcolarlo, quindi andiamo sugli indici di natura storica più che preditiva, cioè DSCR va verso i flussi futuri, gli altri sono indici di natura storica. Allora, due esigenze nascono, poi, ti prego Stefano, interrompemi se no, rischio di fare un webinar. Prego, prego, no, no, vai liberamente. Ecco, però, interrompimi con facilità. Allora, per quanto riguarda la parte statica, diciamo, perlomeno cerchiamo di riclassificare i bilanci infranuali e di ricalcolare i bilanci infranuali, perché oggi siamo a marzo, per esempio, se io non ho un bilancio infranuale vado a calcolare su una cosa che è successa che è successa 15 mesi fa, quindi, voglio dire, di per sé, diciamo, sfugge a quello che è l'esigenza di prevenire questa crisi di impresa. E questo, per quanto riguarda l'aspetto, diciamo, iniziale, l'inus è un ottimo strumento che consente di fare i bilanci infranuali, di lavorarli, cioè di riclassificarli, al fine di ottenerli anche su un periodo molto più piccolo. dopodiché mi fermo un attimo facendo solo una considerazione. Gli indici vanno bene per carità, è quello che abbiamo, però il legislatore è sempre più chiaro dove dice che gli strumenti di controllo per andare a anticipare quelli che sono i segnali di una crisi non possono ridursi soltanto a un elemento di indici. Qual è l'elemento che l'impresa non riesce oggi a tenere sotto controllo sono i cosiddetti rischi. Stefano Bensacchi mi occupo di rischi, quindi quando un'impresa diciamo passa al guado in senso negativo spesso succedono delle cose, adesso non voglio riferirmi all'esempio di questi giorni, naturalmente però un po' sì, l'azienda passa in grado perché succedono cose che la stessa non è stata in grado di porre alcuni e medio in tema di diritti. Quindi i numeri vengono superati dagli accadimenti questa è la sostanza i numeri vengono superati dagli accadimenti e quindi peggiorano in maniera molto rapida e quindi travisando quello che ha rispetto della norma. Spero di essere stato abbastanza chiaro anche se l'esigenza di essere conciso è prioritaria. Prego Stefano. No, poi eventualmente ci fossero domande su queste naturalmente naturalmente le prendiamo. Allora io proseguo poi ti 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 coinvolgo sicuramente Luciano quindi gli indici che lavorano sullo schema sullo schema civilistico sono sette due di questi indici quindi il patrimonio netto il DSCR sono degli indici cosiddetti di applicazione generale questo vuol dire che si tratta di indici che vanno applicati con quelle formule a prescindere dal settore di appartenenza di una azienda ce ne sono poi cinque che sono gli ultimi cinque che sono inserite nella slide che invece hanno delle soglie che dipendono dal settore e qua c'è un argomento molto importante che molti di voi conoscono ma che vale la pena ribadire rapidamente ovvero che questi indicatori hanno delle soglie che cambiano in base alla classificazione a teco perché alla fine il codice della crisi ha identificato dei settori anche ai fini dell'applicazione di questi indici dei macro settori che altro non sono che degli aggregati di codifiche ufficiali di codifiche a teco di attività questo quindi l'appartenenza ad un macro settore piuttosto che all'altro può andare a modificare le soglie di questi indici quindi un'azienda che ha determinati indicatori come quelli che vedete in evidenza potrebbe rispettare le soglie del codice della crisi se appartiene ad un settore se noi facciamo l'esercizio e questa simulazione con Linus è una simulazione fattibile che è generalmente molto apprezzata poi dai revisori o da chi si occupa di codice della crisi se noi facciamo la simulazione in tempo reale e cerchiamo di applicare un settore diverso ad una azienda ecco che possono cambiare allora questo quando diventa utile questo diventa utile innanzitutto per dei casi un po' particolari ma che non sono neanche così infrequenti ovvero di una società tenete conto che ha un certo codice a teco che ha una certa attività ufficiale ma che poi al proprio interno magari nel corso degli anni ha sviluppato un'attività che andrebbe classificata con un altro codice a teco e questo accade spesso all'interno delle società ancora più spesso accade che in questi casi la società non abbia una contabilità analitica che le permetta di distinguere no al suo interno le cosiddette aree strategiche dei affari oppure le business business unit in questi casi quindi è possibile prendere la contabilità generale spacchettarla in una o due sotto insiemi e questo si può fare tranquillamente anche con Excel certi programmi di contabilità un po' evoluti permettono di farlo e andare a simulare la lettura ai fini del codice della crisi non già dell'intera società come si fa di solito ma di tutte le aree da fare o di tutte le business unit che compongono dal punto di vista economico e patrimoniale quella società ecco che questo esercizio permette poi di dare una lettura ancora più approfondita rispetto a quella che sarebbe un'applicazione al totale della società naturalmente ho bisogno di un accesso interno ai dati della società ecco per quanto riguarda poi il funzionamento del codice della crisi stai lì Luciano che adesso ti coinvolgo è un funzionamento ad imbuto nel senso che gli indicatori i due indicatori generali che avete visto in precedenza sono indicatori che vanno a guardare innanzitutto se il patrimonio netto è negativo e già qua fatemi dire che c'è anche il conforto del codice civile che prevede da decenni che bisogna fare delle cose bisogna intervenire se il patrimonio aziendale è negativo se il patrimonio aziendale è negativo già di per sé entriamo in uno stato ai fini della procedura d'allerta che fa scattare questo è un indicatore che è scattato tutti gli effetti poi c'è anche una valutazione sul DSCR e c'è una soglia pari ad uno per cui se anche questa soglia e adesso vediamo un po' come calcolare il DSCR anche con l'aiuto di Luciano Tarantino in quel caso lì entriamo in stato d'allerta se entrambi gli indicatori sono positivi quindi non sono fuori soglia comunque vanno calcolati cinque indicatori specifici per settori e ad oggi se non vado errato questi indicatori affinché scatti la procedura di allerta devono essere tutti i cinque tutti i cinque contemporaneamente fuori soglia quindi questa è la logica del codice Luciano un tuo commento su questa struttura e dove tu vedi eventuali punti deboli rispetto a questa costruzione Luciano mi senti? non so se qualche problema di collegamento Luciano Tarantino noi proseguiamo con la nostra analisi Luciano se mi senti poi tu intervieni naturalmente in qualsiasi momento quindi dicevamo questa è la struttura ad albero del codice della crisi per capire anche quali sono poi i numeri che questa struttura va a sollecitare allora abbiamo confrontato una analisi fatta da Linus con una sicuramente autorevole del solo 24 ore cosa cosa abbiamo fatto? in alto vedete nel primo riquadro un'analisi che riguarda le società di capitale italiane che hanno ricavi superiori a 500.000 euro quindi rispetto a queste società abbiamo misurato che cosa quante sono intanto le società che rispondono a quel criterio e già lì vedete che c'è una piccola differenza anzi grande in percentuale perché secondo il solo 24 ore sono 254.000 secondo Linus 277.000 e quindi già questo vi dice come è difficile poi fare analisi su dati che dovrebbero essere ufficiali che dovrebbero coincidere al centesimo poi siamo andati a vedere di questi insemi quante sono le società che hanno un patrimonio netto negativo mi riferisco a dati 2018 e lì vedete immediatamente che parliamo di circa 8 o 9.000 società in un caso la contra abbiamo fatta a noi nell'altro caso la fatta solo 24 ore ma poco cambia stiamo parlando di quasi 10.000 società che non superano l'indicatore di patrimonio netto non negativo in Italia su quelle superiori a mezzo milione se poi andiamo a raffinare ulteriormente il calcolo e andiamo a vedere di queste 200 e 8.000 società quasi 300.000 quante superano diciamo nel senso che non rispettano contemporaneamente le proprie 5 soglie del proprio settore di appartenenza vedete che i numeri si riducono in maniera drammatica quindi secondo il conteggio Linus sarebbero 421 le società che hanno patrimonio netto positivo quindi non stiamo ricontando queste qua ma che tutte insieme non rispettano i 5 indicatori del codice della crisi e su questo se sei ritornato con noi Luciano ti chiederei un commento perché mi sembra un salto molto grande quindi mi sembra che l'indicazione che indirettamente viene dall'ordine sia quello di fare in modo che non si verifichino dei falsi positivi che invece hanno un rischio nella prima versione del decreto mi sentite? si si perfetto mi sentite perfetto ok allora diciamo che la regola generale chiedo scusa per prima ho perso la comunicazione la regola generale è chi ha più armi in campo che le usi tutte quindi noi non possiamo basarci come dicevamo solo su questi indici ma tornando a questi evidentemente il dato qui che manca è sapere quando avviene il monitoraggio perché è chiaro che se il monitoraggio avviene una volta all'anno cioè sul bilancio presentato si perde la parola monitoraggio perché questi indici sono estremamente variabili nel corso nel corso del passare dei mesi da un lato secondo lato avere tre indici sforati rispetto a cinque non vuol dire stare certamente bene vuol dire che in questo momento che in quel momento per meglio dire non ci sarà l'obbligo di segnalazione eccetera eccetera ma comunque non starei assolutamente tranquillo quindi diciamo da un lato la volubilità del dato cioè questi indici possono variare da un mese all'altro bastano pochissimi elementi per farli variare d'altro lato anche tutti e cinque insieme aspettare di avere il quinto indice fuori parametro mi sembra abbastanza fold dobbiamo assolutamente integrare integrare questi strumenti perché così veramente consideriamo come se il dato fosse a parte che nessuno ci sia ancora detto quando è rilevato questo dato quindi anche il fattore tempo è determinato assolutamente 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 grazie diciamo che un commento che condivido allora non abbiamo visto prima sul dato pubblico il DSCR perché è vero che c'è la formula però è abbastanza aleatorio calcolarlo su un dato come quello che giustamente puntualizzava Luciano perché ci sono degli aspetti in questo calcolo che mi fanno pensare di dover avere una prospettiva interna per fare un calcolo corretto nel senso che il DSCR come molti di voi sanno il DSCR sta per Debt Service Coverage Ratio ovvero è un indicatore che è molto anche utilizzato prima ancora che venisse il coce della crisi naturalmente nel mondo della finanza ok ed è molto utilizzato perché da una valutazione della sostenibilità finanziaria di un piano per esempio quindi l'utilizzo principale nella finanza strutturata è sempre stato quello cosa fa il DSCR mi va a confrontare immaginate un rapporto tra un flusso di cassa che sta al numeratore e generalmente quella è la cassa operativa poi vediamo come viene definita e su questo poi ti convolgo Luciano e un denominatore che è rappresentato dalle uscite di cassa che sono necessarie per servire il debito quindi l'uscita di cassa che dobbiamo sostenere per andare a pagare per esempio il nostro mutuo o i nostri interessi ecco questo è il concetto generale quali sono al nostro modo di vedere gli aspetti critici del DSCR perché un conto è la formuletta un conto poi è l'applicazione pratica innanzitutto a mio avviso Luciano il primo è che non considera la situazione momentane dell'impresa nel senso che io posso capire che ci sia un tentativo di assegnare dei valori dal punto di vista del settore ma anche se tu lo vai a calcolare come giustamente ricordato su dei dati contabili interni dell'azienda quindi magari mensilmente o trimestralmente è chiaro che il suo valore può variare in maniera importante va letto a mio avviso sapendo bene che se io sono un'azienda che sta crescendo tantissimo che sta per esempio entrando in un mercato nuovo ci sta che possa avere delle tensioni sul circolante o anche dell'interpretazione degli indicatori del codice della crisi altrimenti rischiamo di fare il compitino e di creare innocenti e colpevoli in maniera automatica che è un po' una sciagura cosa ne pensi? penso giustamente a quello che dici tu cioè questi segnalatori o indicatori possono essere spesso distonici mi viene da pensare a un finanziamento socio in un'impresa in un momento particolare chiaramente il DSCR migliora perché migliora la cassa migliora tutto poi non è che duri nel tempo e il margine piano piano mangerà la cassa allora dobbiamo dargli il valore che hanno quello che dicevo prima sono degli indicatori non sono sostanza vanno presi e inseriti in un contesto qual è il contesto? 2086 coice civile questo è il contesto cioè l'impresa deve dotarsi di un sistema come ben sapete il secondo corno ovviamente adeguato ai fini sia amministrativo che contabile anche per l'allerta di impresa quel famoso anche la parola magica no? perché vuol dire va bene l'allerta di impresa però l'azienda deve dotarsi di sistemi di controllo vogliamo chiamarlo controllo di gestione chiamatelo un po' come in base all'azienda in base all'adeguatezza perché più l'azienda è piccola più gli strumenti non possono essere estremamente sofisticati quindi concludendo questo aspetto gli indici della crisi sono una parte sono un indicatore non è un segnale inequivocabile perché spesso possono essere riflessati da fatti come diceva prima Stefano assolutamente fine anche un po' diciamo fine a se stessi o a condizioni particolarissime mi prendo un secondo la parola perché ti abbiamo perso per un istante quindi continuo io ma il tuo ragionamento era chiaro allora gli altri aspetti critici che vorrei toccare sempre legati all'applicazione sono innanzitutto che se non sbaglio Luciano sono previste due modalità di calcolo consigliate per il calco del DSCR una che io chiamo da tesoreria quindi vuol dire che il consulente dell'azienda avendo accesso ai dati prende lo scadenziario adesso la banalizzo un po' permettimi e va a vedere quando scadono gli incassi e i pagamenti in base a quello si costruisce l'indice insomma siamo in Italia noi come del resto tu abbiamo tante aziende come clienti sappiamo che quello che c'è scritto nello scadenziario clienti fornitori insomma raramente poi viene se lo confronto che i flussi di cassa reali a posteriori diciamo che spesso e volentieri le due cose non coincidono a meno che lo scadenziario non sia fatto già con dei margini di sicurezza da permettere un calcolo più sensato oppure semplicemente ricostruendo i flussi di cassa che è quello che fa Linus nel nostro caso ricostruendo i flussi di cassa avendo l'accortezza di separare la gestione operativa dalla gestione finanziaria ecco su questo tu come consulente anche quando lavori con le aziende ti senti più di utilizzare il primo metodo o il secondo? beh certamente il metodo analitico è sicuramente più efficiente ma spesso ripeto le aziende questi dati non li hanno o considerano o meglio non li hanno diciamo così come dicevi tu prima vivono molto su quella che è l'esigenza del mese quindi la programmazione il controllo di gestione non è così diffuso in aziende in aziende con fatturati relativamente piccoli anche se sarebbe indispensabile quindi anche il metodo diciamo senza dati specifici il metodo Linus per capirci perché non ha dati quindi lo muove genericamente ti dà un'indicazione ma secondo me è l'indicazione che serve non è che il dato preciso sì ho capito ma l'indicazione mi deve già mettere in allarme oppure no negli interventi da eseguirsi ecco e l'organo di controllo dell'azienda può mi confermi che può scegliere discrezionalmente a seconda della situazione se usare primo o secondo è così? assolutamente sì quando parliamo di organo di controllo adesso stiamo scendendo ovviamente in queste nuove realtà che hanno richiesto da cui la normativa richiede l'organo di controllo che secondo il mio punto di vista non vorrei essere ripetitivo oltre che i codici di impresa devono chiedere un sistema di controllo interno e l'utilizzo anche di simulatori stress test esempio Linus è un ottimo stress test no? perché tu inserisci inserisci bilanci preventivi inserisci business plan inserisci anche singoli fatti e vedi come si modifica si modifica il modello cioè dobbiamo pensare che dobbiamo essere iperattivi sotto questo punto di vista e non passivi nell'attesa di fare un calcolo una domanda mi chiedono se visto che l'orizzonte temporale è a sei mesi o addirittura è anche opportuno guardare ad un anno quando si calcola DSCR questo rapporto deve tener conto dei flussi cumulati a sei mesi oppure se tu fai il controllo mensile devi calcolarlo mese per mese sui flussi di quel mese lì quel mese lì per i sei mesi successivi Luciano non mi avete perso? si ora se lo ripeti gentilmente mi è andato per un secondo allora quel mese il mese di calcolo febbraio marzo come siamo adesso fino a settembre è il risultato lasciatemi dire estremamente minimo cioè la legge non ci mette al riparo cioè se uno riesce ad andare un pochino più avanti è tutto fieno come dire che mette in cascina ed è tutto tempo che acquisisce come vantaggio per affrontare una possibile crisi chiaro l'ultimo punto separerei la prego chiedo scusa Stefano separerei e vedrei molto vedo molto importante esigenza di segnalazione ma ancora più importante l'esigenza di gestione ok quindi sei mesi è proprio un risultato dire ragazzi in sei mesi in un'azienda fai veramente poche cose quindi più riesci ad essere predittivo più riesci ad essere in là nel tempo più guadagni giorni mesi settimane in cui riesci a operare all'interno dell'impresa questo è il messaggio che vorrei dare chiaro ecco il valore che è fissato è quello di uno quindi avendo capito come funziona l'indice quello è un valore per cui devo avere risorse finanziarie no superiori al denominatore cioè alle uscite finanziarie e poi c'è un altro punto Luciano che a me hanno chiesto in diversi perché si parla tanto di analisi di bilancio ai fini del codice della crisi ma ci siamo completamente dimenticati di un'altra bellissima realtà ovvero che c'è la cosiddetta asset quality review cioè che le banche ormai da un annetto malcontato per obbligo e normativa europea anche loro devono fare dell'analisi di bilancio e anche andamentali che non sono il caro vecchio rating ma sono una cosa nuova cioè l'applicazione degli frs 9 per cui a fronte di queste valutazioni che non approfondiamo in questa sede perché non è l'obiettivo possono cambiare in maniera molto violenta la classificazione di un'azienda e tra questi indicatori indovinate cosa c'è anche lì c'è il DSCR allora qualcuno mi ha detto Carrara ma io ho un DSCR che mi chiede il codice della crisi che mi chiede di essere maggiore di 1 in realtà ho parlato con l'ufficio cliente della banca ma hanno detto che nel loro caso esigono almeno l'1,5 e nel caso della banca non mi dicono qual è la formula da adottare allora come ci dipaniamo in questo problema perché ancora pochi se ne sono accorti di questa problematica per fortuna però fra un po' verrà fuori allora come dipaniamo questo problema senza diventare polemici ce la metto tutta allora perché quando si parla di banche diventa difficile no la banca è il soggetto che ti dice se utilizzi il fido al 100% è un parametro negativo se lo utilizza il 75% è un parametro positivo allora spiegatemi perché ho chiesto il fido di 100% ecco ok detto ciò allora è un grandissima confusione la banca ha un problema di di concessione del credito noi siamo spesso spesso le aziende vanno in conto all'utilizzo abusivo del credito ma da domani o da domani o da ieri anche le banche vanno contro alla concessione diciamo non legittimata del credito perché devono acquisire maggiori informazioni questo è il preambolo lo faccio più breve possibile quindi è chiaro che cercheranno di chiedere all'impresa più informazioni più informazioni e cercando di cosa possono fare chiedere più informazioni agire nel tempo quindi dire qual è la proiezione di un'impresa non solo sotto gli aspetti economici finanziari classici cioè la presentazione di un business splendido eccetera eccetera ma assolutamente nell'esame dei flussi di cassa e viva Dio dico io abbiamo aziende non posso fare il nome per un webinar ma separatamente se mi iscrivete ve lo faccio abbiamo aziende che hanno detto io non ti servo più perché tu tra due anni visto i tuoi flussi di cassa sarai in default questo è un esempio una compagnia di navigazione di questo accidenti ecco quindi cominciamo a prendere delle posizioni ok quindi ancora una volta tu poni l'accento giustamente non tanto sulla soglia sul valore ma sull'intorno sul complesso dell'analisi che è la cosa che ha più senso quindi guardo anche la cassa se sto sopra l'1,5 li soddisfo tutti e due se no vediamo sì ma il problema è io sto sopra l'1,5 ma per quanto tempo non è che sto sopra l'1,5 perché ci sono dei fatti eccezionali per cui la cassa mi gira particolarmente bene cioè voglio dire noi abbiamo avanti a noi e mi taccio la possibilità dove dobbiamo imparare a fare gli stress test come fanno le banche per se stesse cioè dobbiamo simulare quindi dobbiamo riclassificare il bilancio ipotizzare i scenari del mese dopo dei sei mesi dopo dei tre mesi dopo e prima ancora di arrivarci ipotizzare quali sono le risposte che il sistema con i canali che conosciamo ci può fornire grazie grazie sono assolutamente d'accordo anche su questo vabbè questo è un po' una nota una nota anche qua operativa nel senso che se voi guardate al mondo dei bilanci pubblici quindi il codice della crisi anche una sua ricaduta non solo per il gestore all'interno dell'azienda ma anche in chiave commerciale per chi si occupa per esempio di revisione o di assistenza delle aziende c'è una ricerca utilizzando dati solo pubblici perché stiamo cercando aziende che magari non rispettano alcuni degli indicatori del codice della crisi perché offriamo un servizio che permette all'azienda come dicevi giustamente tu Luciano di pianificare di fare degli scenari magari l'azienda da sola non riesce a farlo allora la ricerca di queste aziende per esempio con Linus è possibile sul database delle aziende italiane utilizzando il DSCR come strumento di ricerca sapendo bene che in questo caso abbiamo qualche limite derivante dal fatto che se quell'azienda lì ha depositato il bilancio in formato microimprese io il flusso di cassa non lo posso calcolare quindi il flusso di cassa vero intendo dire non lo posso assolutamente calcolare è vero che la formula per fare un po' il pignolo prevede che il flusso di cassa sia uguale a utili più ammortamenti chi si occupa di finanza sa bene che questa formula non è in realtà un concetto di cassa non è una dimensione di cassa perché non conta il capitale circolante tutta una serie di altre dimensioni però il messaggio è che con i dati pubblici abbiamo potenzialmente dei limiti al calcolo questa poi vi verrà inviata quindi non voglio focalizzarmi troppo semplicemente per dire che noi all'interno del nostro simulatore Linux sia in fase di simulazione sul bilancio prospettico che di analisi storica dei dati che vengono dal piano dei conti per non sbagliare abbiamo messo otto formule diverse del DSCR che possono essere ulteriormente personalizzate questo perché a mio avviso il vero punto di attenzione è che il commercialista il professionista sia lui che scelga il modo più adatto per calcolare il DSCR e il software è semplicemente andargli dietro e rendigli la vita più facile questo è un po' la mia concezione il punto di oggi era anche però come analizzo il bilancio partendo dalla contabilità interna quindi torno un po' a bomba sulla slide iniziale che avevamo visto di cosa è la riclassificazione allora i passi qua sono molto semplici quindi in questo caso ci viene ci fa molto gioco il codice della crisi ma la procedura che vedete adesso è una procedura che può anche essere utilizzata per riclassificare i bilanci scusate e farne una valutazione anche non necessariamente ai fini del codice della crisi quindi il primo punto è andarsi a prendere il piano dei conti valorizzato o bilancio di verifica che dir si voglia dal punto di vista pratico dal punto di vista pratico poi quali sono gli aspetti critici con cui si ha a che fare il primo l'esportabilità dei dati sembra una cosa strana però ancora nel 2020 nonostante ci siano fior fior di software di contabilità in alcuni casi si fa fatica ad esportare i dati e spesso e volentieri questi dati sono magari esportabili ma non lo sono con un formato e una struttura già riclassificata o con un formato e una struttura che permetta a loro di essere elaborati facilmente quindi se io ho un pdf esportato poi faccio molta fatica andammo a buttare su excel a fare tutte le riclassificazioni e le lavorazioni il terzo punto critico è che i piani dei conti sono degli oggetti vivi sono delle cose vive e quindi da un trimestre all'altro io inserisco dei nuovi conti perché apro dei nuovi clienti apro una nuova banca e chiudo un'altra allora se il piano dei conti segue una struttura stabile a livello di macro conti allora questo problema mi si riduce se invece non è così e quindi anche l'utente singolo quindi il cliente azienda può creare dei macro conti nuovi allora io ho a che fare con un dato mensile trimestrale quello che vuoi tu Luciano però che tutte le volte mi richiede di reinventarmi la ruota da zero e questo vuol dire tempi costi e qualche mal di testa da parte del consulente anche del cliente ti ci ritrovi in questa problematica Luciano? Purtroppo sì diciamo che ho imparato da tanto tempo a riclassificare mensilmente il bilancio e avere un formato che mi consenta di lavorarlo rapidamente cioè la possibilità di utilizzare il dato passatemi l'espressione fresco è davvero un'opportunità imperdibile soprattutto nel momento in cui devo essere predittivo quindi la contabilità dal bilancio di verifica grazie a un'ottima riclassificazione magari non quadrerà al centesimo lasciatemi dire ma comunque la sostanza non viene modificata mi consente di leggere subito i dati in campo e di paragonarli a scenari codici indici tutto quello che la legge ci imporrà ma lasciamo perdere la legge tutte le necessità aziendali che sono quello di capire cosa succede con un cliente nuovo che pagherà a 90 giorni anziché a 30 oppure facendo un factory oppure cosa succede se faccio un'operazione di mediotermine scusa Stefano se esono un attimo tu sai che sono un po' devastante su questo punto di vista se esono un attimo dal programma ma la recensionazione serve a questo serve a dire io sono qui se faccio questo cosa succede e non devo aspettare sei mesi per saperlo ebbene che provi tanti scenari nel giro di pochi 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 minuti e devo dire l'inus consente questa attività in pochi minuti e con una semplicità insomma incoraggiante nonostante non sia un'attività semplice da fare per carità grazie grazie della notazione è un problema è un problema questo qua concreto quindi come come faccio a gestire questa fase qua vi diamo un esempio quindi andiamo ancora più sul concreto e più in profondità perché questo che ci chiedono i nostri partecipanti io ho lì a sinistra un esempio un esempio tra milioni di esempi di piani dei conti quello è un piani dei conti valorizzato vero ok di un software di contabilità anche molto molto conosciuto allora il tema che io devo prendere quell'oggetto lì che è fatto da quasi 1500 righe in questo caso potrebbe essere fatto da 2000 righe in un altro caso e riclassificarlo se per esempio devo calcolare gli indicatori del codice della crisi in un formato civilistico in un formato civilistico possibilmente stabile possibilmente che mi dia tutte le informazioni mi permette di fare degli scenari allora questo è un passaggio che può essere gestito o in Excel se vi volete fare del male oppure ci sono anche delle piattaforme noi siamo una di quelle naturalmente ci sono anche altre sul mercato che vi permette di gestire in maniera automatica questa fase talto faccio una piccola parentesi questa proprio relativa a Linus lunedì lunedì prossimo che penso sia il 23 alle due e mezza c'è un webinar dove si farà con Alessandro Fischetti una esercitazione proprio pratica di casi reali come quelli che vedete lì adesso ma a livello dinamico di come si fa a riclassificare e poi a calcolare anche l'indicatore del codice della crisi quindi per chi fosse interessato ci scrivesse oppure va sul sito e trova naturalmente tutti i riferimenti è importante per il codice della crisi come dicevo prima andare ad assegnare anche il settore perché in base a quello vengono calcolate le soglie quindi tutto questo ormai deve essere gestito in maniera automatica perché è importante quello che diceva Luciano il valore aggiunto sta poi nel professionista che si mette lì ragiona fa le simulazioni e tira le somme tra le sue conclusioni il secondo blocco quindi andando avanti in questo flusso che mi serve lo ricordiamo per andare a fare l'analisi di bilancio in questo caso è la riclassificazione in formato civilistico in altri casi il formato scelto potrebbe non essere quello civilistico ai fini del piano dei conti è quello civilistico allora anche qua c'è una non banale area di discrezionalità nei criteri scelti perché è vero che il bilancio civilistico segue regole contabili ma sappiamo benissimo tutti noi che operiamo che a volte ho delle partite contabili che sono messe in certi cassetti in certi punti e poi è abbastanza opinabile se quella voce di ricavo per esempio la metto nei ricavi operativi oppure la metto nella voce a 5 quindi alti ricavi tante volte c'è discrezionalità cosa succede con i commercialisti questo a noi accade io non so se dovrei dirlo o meno però lo dico che utilizzano il nostro strumento perché fanno prima di chiudere lo stesso bilancio ufficiale delle simulazioni di come verrebbero fuori gli indicatori del codice della crisi se una partita piuttosto che l'altra la riclassificano in una voce civilistica piuttosto che in un'altra e quindi e a volte i cambiamenti sono molto importanti non sono determinati dal fatto che l'azienda è diversa ma dal fatto che ho preso una voce l'ho messa in un cassettone piuttosto che nell'altro nell'altro cassettone ho detto una cosa brutta Luciano o ho detto una cosa che ti torna anche in questo caso mi torna mi torna ancora meglio cioè nel senso talvolta si fanno delle scelte strategiche tra una forma di finanziamento a un'altra adesso allargando un attimo il discorso e quindi utilizzando categorie diverse di debito ottengo ottengo risposte diverse non so se vengono l'idea quindi talvolta si sceglie una forma anziché un'altra perché di fatto non tanto perché l'indice comanda ma semplicemente perché dietro all'indice c'è un ragionamento quindi un indebitarsi più a breve rispetto che a medio magari sembrerebbe più conveniente indebitarsi a medio adesso ovviamente questo è un banale esempio però sotto un profilo di indice quindi di coerenza di bilancio è più opportuno la seconda o fare un lesing piuttosto che poi bisogna dire che il tipo di bilancio siamo ricordiamoci che un lesing abbiamo bilanci diversi che lo vedono in maniera diversa addirittura io conosco aziende ho lavorato per aziende che a un certo punto si è detto se non passo gli frs io non riesco più a dare la reale la reale sostanza del mio bilancio all'esterno quindi ho addirittura i bilanci i bilanci ridotti rispetto a me quindi come vedete cioè cosa stiamo facendo noi diamo delle informazioni all'esterno oltre che all'interno quindi dobbiamo essere coerenti con quindi andare a dare una cattiva informazione secondo me bisogna pensarci pensarci vado rapido grazie vado rapido perché ci sono delle domande per te allora una è proprio tecnica sul DSCR che mi era sfuggita prima chiedo scusa chi me l'ha posta ovvero dice che nella guida del solo 24 ore di febbraio la quota interessi non era al denominatore quindi è un po' una richiesta di conferma su dove andare a mettere seguendo la la formula ufficiale la quota interessi nel DSCR nel calcolino del DSCR quindi io sono abbastanza d'accordo con le interpretazioni del solo 24 ore devo dire però non vorrei ridurre ridurre il ragionamento a una formula scusate faccio un passo avanti cos'è il DSCR è la capacità dell'impresa di sostenere i propri oneri in un periodo determinato se non usiamo la formula tal bilancio non si capisce perché i dati sono accumulati quindi più riusciamo a essere analitici più riusciamo a essere veri meglio rappresentiamo la nostra impresa meglio forniamo forniamo informazioni preziose e coerenti non so se va bene la risposta tecnica ma voglio dire superiamo questa fase tecnica sul DSCR perché è una cosa molto importante per i terzi ok poi c'è una domanda per me invece dove mi chiedono se esiste già un webinar che penso che mostra l'atto pratico come si fa il Linux da un bilancio sezioni contrapposte e reclassificazione quindi come si fa dal civilistico e non dal bilancio di verifica a questo partecipante dico si esiste è una di quelle domande che dicevo all'inizio richiedono una risposta un po' più articolata quindi dopo gli daremo una risposta e anche gli diremo dove andare a vedere quello che sta cercando vado avanti magari visto che il pratico c'è dato il webinar glielo puoi far fare direttamente così è comunque una procedura semplice l'ho fatta più volte volentieri volentieri in questo caso quello che noi stiamo vedendo è all'interno di Linux ma torno a dire qua Linux è una scusa uno lo può fare con altri strumenti o con Excel come prendo lo stesso piano dei conti di prima e in maniera automatizzata in questo caso vado a riclassificare delle voci di piano dei conti in voci del bilancio civilistico quindi l'etichettina che è il rettangolino rosso la riconoscete è una voce di tipo civilistico una volta che io riesca a fare questo esercizio poi lo vediamo fra qualche secondo nella parte un po' più leggera del nostro del nostro lavoro io poi in automatico ho tutto quanto alimentato quindi tutti gli schemi tutti gli indi sono automaticamente generati fermo restando che a monte devo aver fatto quest'opera di riconversione o di riclassificazione ecco che una cosa importante che ci ha dovuto fare la tecnologia è che se io ho una struttura del piano dei conti abbastanza stabile dico abbastanza stabile perché è totalmente stabile non è possibile riesco a memorizzare tutte queste etichettine che sto toccando quindi riesco a memorizzare un modo di riclassificare quel dato e questo per il professionista è un vantaggio perché non è detto che il professionista faccia questo lavoro solo per aziende alle quali gestisce la contabilità potrebbe anche darsi il caso in cui il professionista segue come consulente aziende che hanno altri soft per contabile allora poter avere uno strumento che mi riconverte nello stesso modo qualsiasi dato contabile anche ai fini dell'analisi di bilancio del codice della crisi sicuramente è un punto a favore quindi qualsiasi formato può essere riclassificato nel formato civilistico e la mappatura memorizzata una volta fatto questo qua viene la parte più facile identifico le soglie le soglie sono predefinite anche sul piano dei conti perché generalmente l'informazione della teco è presente se non fosse presente banalmente una volta trasferito il piano dei conti posso io andare a dire alla piattaforma qual è il settore di applicazione quindi in base a quello poi le soglie che vedete lì col circoletto mi vengono automaticamente calcolate automaticamente indicate di conseguenza vedo scusate quello che diceva prima Luciano ovvero se sto sforando una, due, tre o magari tutti e cinque gli indicatori gli indicatori alla fine di questo processo vengono calcolati vengono calcolati gli indicatori della mia analisi che è questa colonna in rosso mi viene indicato il periodo in questo caso sono indicatori calcolati come dicevi tu prima Luciano su un bilancio annuale in questo caso che però come vedete dalla data non è un bilancio ancora pubblico quindi tutto sommato sono passati due mesi e mezzo è diverso da farlo su un dato del 2018 dove ne sono passati molti di più di mesi in questo caso viene data una lettura che sembra che il software ti abbia letto nella mente Luciano perché ti fa vedere qual è lo scostamento fra il valore che assume nel caso concreto la soglia quindi gli oneri finanziari sono allo 0,49% ed è un dato reale quell'azienda ha questo valore dell'indice specifico oneri finanziari su ricavi la soglia minima dato il settore poi soglia minima si intende da non sforare è interpretato in questo modo del 3% c'è una tolleranza che noi consigliamo di seguire fino al 3-4% come dire l'indicatore ti richiede di non superare i 30 all'ora non è la stessa se tu vai a 31 hai sforato l'indicatore però non è come andare ad 80 quindi questo è un po' nella direzione Luciano che dicevi tu prima di preparare anche il terreno per la consulenza certo certamente ok certamente allora altro problema operativo per l'analisi di bilancio legata al codice della crisi che qua ci segnalano in tantissimi è che è molto importante la prospettiva forward looking quindi il saper il poter guardare avanti quindi il fare simulazioni e qua il problema operativo numero uno che mi segnalano tutti gli operatori è che se io voglio fare delle simulazioni benvenga alle simulazioni e le voglio fare applicando essendo ligio le formule del codice della crisi devo avere anche una proiezione del business plan che faccio delle simulazioni di tipo civilistico o meglio un conto è fare una simulazione puntuale Luciano dove per esempio io simulo uscite entrate di cassa a sei mesi e calcolo un DSCR a sei mesi quella è una simulazione puntuale va bene altro conto è dire io simulo i bilancio i valori economici patrimoniali finanziari quindi flusso di cassa dei prossimi tre mesi dei prossimi sei del prossimo anno e li devo mettere tutti insieme per vedere come si proietta come si compagina tutto quanto e io ho visto pochissime volte nella mia esperienza professionale fare dei business plan in formato civilistico generalmente i business plan seguono il formato che vedete adesso o seguono degli schemi a costo good sold o schemi che non sono civilistici quindi c'è il problema pratico di come faccio a far girare la formuletta su un piano che generalmente non vado a fare in formato civilistico quindi tu questo problema come lo affronti perché questo è un aspetto tecnico che fa io peggio ancora lo sai mi conosci quindi sai come lo penso peggio ancora nel senso che vado anche a cercare di prevedere perché parliamo di predizione secondo dei principi molto molto rigidi non sono certo non una fantasia quali sono anche i rischi che l'impresa va a incorrere verso il futuro mi fermo qua per limitarmi nel senso che dobbiamo per forza simulare 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 scenari e quindi questa forma di predizione quindi molto più puntuale attenta alle variazioni di tasso attenta alle variazioni di indebitamento quindi attenta elementi un attimino più reali e sicuramente ci aiutano le imprese a capire dove stanno qual è la strada che sta perseguendo sia in senso positivo ma spesso quali sono le minacce che apparentemente vengono dall'esterno ma che in realtà vengono solo dall'interno e vanno in qualche modo previste o valutate toccate chiarissimo noi l'abbiamo risolta in questo modo la problematica e come vedete ora siamo quello che vedete è una parte della Dlinus quindi il modulo di business plan che è quello che l'utente usa per fare le proprie simulazioni vedete che sul 2019 il software è in grado di riesce a calcolare i valori delle formule sugli altri anni no nonostante ci sia un piano all'interno del software perché in prima battuta quel piano non ha un formato civilistico allora guardando al tempo delle persone e del professionista che poi il tempo è oro abbiamo inserito un'altra tabella che calcola indicatori molto molto simili forse qualcuno di voi non si è accorto del passaggio lo rifaccio questi sono gli indicatori del codice della crisi quelli ufficiali quindi sono indicatori non di Linus ma quelli ufficiali che noi andiamo a recepire questi sono invece degli indicatori molto molto confrontabili molto simili che girano su un bilancio non civilistico ma su delle ricassificazioni più di natura gestionale quello è il vantaggio quando io faccio delle proiezioni dico simulo che nel prossimo anno farò più 30% dei ricavi questo è il piano del personale automaticamente in tempo reale mi vedo costruiti degli indicatori estremamente comparabili a quelli del codice della crisi ufficiale quindi è difficile che questa tabella sia tutta verde poi riconverto il bilancio in formato civilistico e faccio lo stesso calcolo sul civilistico e diventi tutta rossa generalmente coincidono abbastanza la differenza e il vantaggio è che lo faccio in un secondo anziché metterci insomma un po' più di tempo nel fare la mia simulazione quindi anche qua simuliamo mi trovi d'accordo addirittura possiamo fare la simulazione ma queste poi ve le invio su indicatori infranuali quindi siamo partiti al 2019 vado a simulare l'evoluzione degli indicatori sui primi sei mesi lo posso fare mese per mese quindi vado a calcolare il DSCR mensile poi scelgo io il metodo se guardando la tesoreria oppure facendo l'indiretto questo poco conta l'importante è che posso gestire tutte quante le situazioni che mi si possono presentare allora io farei un cambio un po' di ritmo e di capitolo nel senso che qua ci avviciniamo ancora di più all'analisi di bilancio in senso lato quindi lasciamo per un secondo il codice della crisi che è un sotto insieme non me ne voglia nessuno di analisi di bilancio con delle finalità particolari per dire che è necessario leggere sempre anche questo mi fa il piacere che Luciano l'abbia detto in precedenza tutti gli indicatori all'interno di un contesto cioè è come se io faccio gli esami del sangue se il colesterolo è un po' alto ma la pressione è a posto non fumo e non ha altri problemi magari sono meno a rischio di uno che a parità di colesterolo ha altri indicatori di rischio allora quello che vedete è un po' una provocazione cosa abbiamo fatto abbiamo preso 874 imprese toscane e l'abbiamo scelte prendendo imprese toscane che avessero tutti e cinque gli indicatori tutti e cinque gli indicatori del codice della crisi di un certo settore assolutamente in linea quindi nessuna di queste aziende aveva sui dati ufficiali del 2018 nemmeno un indicatore fuori scala quindi tendenzialmente aziende assolutamente sane le abbiamo poi aggregate con con l'inus e abbiamo analizzato la dispersione dell'874 allora il messaggio si penso che la zai parli da sola nel senso che se vado a destra vedo che l'analisi di affidabilità quindi in questo caso abbiamo usato l'inus core non potreste utilizzare qualsiasi score qualsiasi rating non necessariamente i nostri il concetto non cambierebbe ve lo assicuro andando a vedere questo 874 che sono tutte belle per il codice della crisi ce ne sono invece secondo lo score quasi 340 che sono rosse e che richiedono un approfondimento immediato perché hanno un indicatore di affidabilità visto con lo score molto molto povero a volte anche pessimo sulla sinistra vediamo invece un'altra una taslavia interessante un'altra tavola interessante che dimostra come per fascia di ricavi quindi sugli assi verticali vedete c'è la fascia di ricavi come si distribuisse le bità dell'azienda di quella fascia con il minimo e il massimo quindi nella fascia che va oltre i 150 milioni tanto lì manco si applicerebbe il codice della crisi in teoria però ho meno 13% le bità minimo 12 il massimo nella fascia piccolina ho meno 48 come minimo e 21 come massimo questo cosa vuol dire al di là del giochino della provocazione vuol dire che è la conferma empirica che i dati vanno guardati sempre dentro un contesto altrimenti si rischiano delle cantonate mostruose ho detto bene Luciano hai detto benissimo hai detto benissimo d'altro canto concentriamoci anche sulle parole indicatori spesso noi tutti usiamo banche banche dati con scoring e vediamo che talvolta spesso gli indicatori sono addirittura distonici quindi la lettura del medico del professionista dell'imprenditore con la sua struttura è assolutamente indispensabile quindi non diamo più valore di quello che hanno indicano una situazione da un punto di vista ma gli angoli per vedere un'impresa sono mille sono mille non so se verò invitato nuovamente ma mi piace dirlo ancora una volta così me lo gioco fino in fondo noi possiamo soltanto difendere simulando dobbiamo difendere stressando i concetti e avendo degli strumenti operativi veloci che consentono all'imprenditore e lasciatemi dire anche sempre più all'imprenditore con l'aiuto preziosissimo del consulente ma insomma anche all'imprenditore anziché guardare i ricavi e basta purtroppo le cose da vedere da tenere sott'occhio nel cruscotto sono un po' di più e senza uno strumento veloce e diventa diventa complesso il tema di te io non solo ti rinvito quindi ho preso nota della tua disponibilità a ritornare mi fa piacere ma faccio vedere un altro esempio provocatorio attenzione questa è una provocazione quindi nessuno si senta offeso di sei aziende vere che sono fallite nel 2018 e che avevano nell'anno precedente non scusate fallite nel 2019 che nel 2018 avevano gli indicatori 5 indicatori di allerta specifici assolutamente buoni o comunque con qualche segnale di incriccamento ma non tutti non è un problema del codice della crisi questa cosa avrebbe anche applicando il nostro score o qualsiasi score o rating quindi la predittività degli indicatori guardati in maniera isolata e da soli senza simulare è molto molto bassa quindi attenzione usiamolo facciamoli calcoliamoli perché ce lo richiede la normativa va bene ma guardiamoli sempre insieme al contesto insieme a chi è in grado di leggerli affianchiamo sempre altri indicatori e gli altri indicatori possono essere figli di riclassificazioni un po' diverse scusate mi è scappato via allora cosa vuol dire vuol dire che noi abbiamo riclassificato il nostro piano dei conti in formato civilistico perché ci interessava calcolare gli indicatori del codice della crisi ma non è detto che io non voglia calcolare fare altre elaborazioni appunto per leggerle in maniera concomitante agli indicatori del codice della crisi questo linus ti permette di farlo se non hai linus puoi usare excel o altri applicativi naturalmente e noi cosa proponiamo proponiamo un conto economico di natura gestionale che viene generato automaticamente dalla piattaforma che è una struttura di quel tipo lì cioè una struttura come quella rappresentata dove i costi non sono più distinti in base alla destinazione quindi godimento di beni di terzi beni costi per servizi eccetera eccetera ma sono costi che guardano alla natura della voce di costo perché se io pianifico perché se io simulo come diceva Luciano è molto più rilevante a mio avviso capire come si muove un costo rispetto a che tipo di costo è io devo capire se quel costo cresce o si abbassa quei ricavi e più lo capisco più attendibile sarà la mia simulazione quindi se un costo viene battezzato come costo variabile all'aumentare dei ricavi mi aspetto che cresca in maniera più o meno proporzionale se invece un costo fisso rimane fisso questo è uno dei vantaggi di gestire i costi per natura e questo schema lo esemplifica il secondo vantaggio è che io vado a calcolare il valore aggiunto e il margine di contribuzione il valore aggiunto è il mio primo margine aziendale mi dà tantissime informazioni sul modello di business che segue l'azienda e qua guardate bene ci sarà un webinar non ricordo in che data dove andiamo a fare una analisi dei codici a teco e dimostreremo con dei casi reali che spesso aziende profondamente diverse dal punto di vista di quello che fanno rispondono alla stessa codifica a teco qual è la prima differenza da queste aziende il livello percentuale di valore aggiunto se io sono un produttore di un bene e poco a poco a causa della concorrenza a basso costo dai paesi stranieri per esempio de-verticalizzo la produzione e tengo sempre meno fasi produttive nel mio paese e più in un altro paese e magari acquisto dei semi lavorati anziché acquistare la materia prima come facevo prima io avrò un valore aggiunto che diminuisce il codice a teco se non viene cambiato quello di prima ma la mia azienda il mio modello di business il mio modello di volare è un altro è un altro quindi l'invito è guardare a questo tipo di riclassificazione perché mi dà informazioni spesso più preziose di quelle che sono le informazioni dirette l'altro tema è naturalmente il margine di contribuzione ai costi fissi e sopra il calco del punto di pareggio del break even storico e prospettico quindi di quel livello di fatturato che ho bisogno per pareggiare i miei conti economici perlomeno e ancora una volta personalizzare le voci quindi l'EBIDA non esiste nel bilancio civilistico ma l'EBIDA se lo calcolo io magari di un'azienda lo calcolo in modo se lo calcolo Luciano con bravissimo professionista lo calcolare in maniera diversa perché perché decideremo magari di mettere delle voci di ricavi lui le metterà in base a una sua interpretazione sotto l'EBIDA io invece magari in base alla mia le metto nei ricavi operativi quindi anche questo va isolato va tenuto in considerazione infine un altro grande vantaggio di questo schema è quello di andare a isolare la gestione straordinaria quindi la riforma 2016 ce l'ha tolta per ragioni contabili e va bene noi l'abbiamo assolutamente mantenuta l'abbiamo mantenuta perché in maniera un po' radicale se volete tutto quello che non è ricavo operativo viene messo o nel saldo o nel ricavi diversi di gestione quindi questa voce che sto toccando oppure se lo è ancora di meno nella gestione straordinaria ecco che se inizio a leggere e dopo aver riclassificato tutti i dati in questo modo diventa assolutamente assolutamente interessante ed utile Luciano ti ritrovi con questo schema gestionale di conto economico e ti torna all'analisi delle voci ma mi torna il fatto che sia assolutamente uno schema lasciami dire aperto nel senso che da lì si può fare ognuno può identificare la propria impresa l'importanza di poter determinare dei primi margini dei secondi margini cioè le imprese veramente non sono tutte uguali quindi dobbiamo per forza questo è lo strumento molto semplice secondo me molto semplice che ti dà una bella idea della tua impresa e soprattutto ti aiuta come dicevo prima a creare scenari ecco sul lato patrimoniale abbiamo detto che se faccio la proiezione deve essere di conto economico stato patrimoniale rendi conto finanziario indicatori indici di crisi eccetera eccetera lo schema che proponiamo è quello non tanto attivo e passivo ma a fonti impieghi quindi io isolo un capitale investito netto dove vedo una cosa che in Italia è importantissima soprattutto nelle piccole imprese cioè quant'è l'investimento io lo chiamo così anche se a breve l'investimento che ha l'azienda in capitale circolante quanto dei suoi soldini sono lì fermi e potrebbero girare magari meglio perché sono immobilizzati in crediti o in rimanenze quanto mi finanzio poi con i fornitori quindi questa parte la annettiamo vedete che il debito fornitore assegno meno perché viene spostato in questo in questo attivo diciamo e di conseguenza gli cambio il segno questo mi dà il capitale investito netto dall'altra parte mi interessa capire questi impieghi con cosa li sto supportando patrimonialmente quindi in che parte li sto supportando con il patrimonio con mezzi propri il patrimonio netto e in che parte li sto supportando non tanto e solo con i mezzi di terzi ma con la posizione finanziaria quindi i finanziamenti a medio a breve sono lasciati diciamo nel passivo quindi tra le fonti ma la liquidità non viene più messa tra gli asse ma la portiamo nel passivo cambiandole segno perché perché in questo modo ho il calco della posizione finanziaria netta come nell'esempio di questa azienda vera che vi ricordo deriva da quel piano dei conti che abbiamo visto all'inizio abbiamo meno 252 mila euro cosa vuol dire vuol dire che questa azienda aveva un surplus aveva una liquidità di 252 mila euro e aveva zero debito finanziario quindi quando qua c'è il segno meno nella posizione finanziaria significa che la cassa è superiore al debito finanziario e questo mi serve moltissimo per monitorare la posizione finanziaria netta e capire il ciclo monetario infine veniamo anche al discorso della siamo in chiusura del rendiconto finanziario il rendiconto finanziario per molti o per alcuni è diventato obbligatorio deve essere parte del bilancio che viene depositato a me interessa un rendiconto finanziario che venga strutturato da subito questo Linus lo fa in automatico sia sullo storico che sulla prospezione in modo tale che io abbia già tutti i valori che mi servono per capire intanto le varie gestioni cosa assorbono quindi da dove viene il danaro e dove va il danaro primo e secondo tornando al tema del codice della crisi capire quali sono già i valori per calcolare in automatico i DSCR quindi avere questo vi permette di concentrarvi poi sull'interpretazione dei numeri dell'azienda concludiamo guardando qualche indicatore poi ti chiedo una battuta finale Luciano qualche indicatore che sono derivati da questo modello di riclassificazione quindi stiamo guardando una riclassificazione diversa da quella civilistica ma gestionale abbiamo degli indicatori semplici quindi quelli tradizionali del bilancio che uso per interpretare meglio l'indicatore del codice della crisi prima abbiamo detto che uno dell'indicatore del codice della crisi guardano il rapporto della cassa o supposta cassa sull'attivo ma se io sto crescendo abbiamo detto che quell'indicatore potrebbe temporaneamente peggiorare allora avere questo tipo di riscontro pronto da presentare sicuramente mi permette di spiegare meglio il valore di quell'indicatore di non fermarmi al singolo numerello abbiamo anche indicatori più complessi che col bilancio civilistico non è possibile calcolare ma bisogna prima riclassificare il bilancio civilistico o il piano dei conti in un formato gestionale che sono tutti gli indicatori legati alla cassa e questi sono molto importanti che sono addirittura gli indicatori complessi che richiede il medio credito centrale per l'accesso alle garanzie quindi il suo rating e la probabilità di default che hanno un impatto sulla banca e che sono poi gli indicatori che mi dicono che modello di business ha l'azienda in questo caso vedete il modello di business industriale non è un'informazione presa dal bilancio nemmeno al piano dei conti è un'elaborazione che fa il software guardando la struttura dei costi infine avere anche un indicatore che mi dica quale potrebbe essere il debito ulteriore che questa azienda può reggere è molto interessante perché lo vado a confrontare col fido io non voglio chiudere con una polemica però se non sbaglio Luciano nel calcolo del DSCR si prescrive che il fido l'affidamento che un'azienda ha debba essere inserita e trattata alla pari della cassa quindi nel mio numeratore però questo me è un po' stupisce perché mi aspetterei che quell'affidamento che io posso avere trovi anche un riscontro nei miei numeri di bilancio quindi io posso avere un milione di fido non utilizzato ma se quell'anno lì ho fatto un bilancio bruttissimo magari ho sempre un milione se ne uso anche solo la metà vado a bagno perché non riesco più a restituirlo quindi no Luciano questa lettura va fatta a mio avviso cosa ne pensi? sì mi sentite? mi senti Stefano? ecco è corretto l'estremizzazione però vorrei essere un po' bonista giusto perché è in chiusura si sta cercando di leggere le imprese sotto dei principi di cassa lasciami dire il re nudo cioè va bene tutto va bene la revalutazione tutto giusto ma si cerca anche il DSCR nella prova di leggere queste imprese sulla capacità di detta meglio di generare flussi quindi uno può avere da fantastici ma non essere in linea con la generazione di flussi tale da richiedere un impiego di capitali notevole non si dice che sia di per sé sbagliato lo si vuole leggere quindi la capacità che è l'impresa di creare flussi al netto degli investimenti necessari ti dà valore non so se sono d'accordo o meno forse sì forse è un po' giunta l'ora andiamo verso un bilancio di sostanza e qui uso la fase di chiusura andiamo verso più un bilancio di sostanza rispetto alla forma lo stiamo vedendo ovunque quindi un occhio alla cassa alla capacità di generare flussi credo che sia importante per avere un esatto una nuova lettura di quello che è il valore dell'azienda d'altro canto le aziende oggi come le valutiamo molto spesso noi che facciamo valutazioni da mille anni con mille sistemi oggi il sistema più usato qual è quello di determinare questo famoso EBITDA e di avere un moltiplicatore questo moltiplicatore ve lo danno i flussi lo dà la capacità appunto che all'azienda di generare di generare cassa in un tempo sempre più determinato mettiamola così credo che sia un'esigenza grazie anche su questo mi trovi d'accordo alla fine tirando le somme la lettura a 360 gradi come deve essere fatta se parliamo di coce della crisi o meglio parliamo di riclassificazione civilistica noi non diciamo che non è necessaria diciamo che è necessaria ad alcune finalità precise in questo caso ne abbiamo selezionate due una la lettura dell'azienda dal punto di vista della fascia di appartenenza del medio credito centrale perché è uno è uno degli indicatori di bancabilità e di capacità di accesso al credito quindi di fare poi dei progetti naturalmente e questo noi la calcoliamo naturalmente in maniera in maniera automatica gestendo anche la centralità dei rischi se necessario l'altra quella che abbiamo appena toccato degli indicatori del codice della crisi tutti questi due mondi derivano da una riclassificazione civilistica del dato che in Linux può essere fatta sul bilancio anche riclassificato oppure anche sul dato grezzo contabile ma vi invitiamo a non leggere mai da solo ma a guardare sempre anche gli esiti di una riclassificazione più gestionale la lettura incrociata di queste due analisi è quella che vi consente di tirare le somme quindi questo è il vero passaggio finale dal piano dei conti alla valutazione dell'azienda devo avere queste due letture incrociate quindi sicuramente questo è l'invito che facciamo riprenderemo naturalmente questo concetto va da sé che naturalmente il codice della crisi va nella direzione giusta quella di anticipare cercare di anticipare le insolvenze che sono un costo sociale che sono un costo economico ma da solo non basta e quindi c'è tutto un corollario di capacità organizzativa strumenti cultura anche che vedo che piano a piano sta prendendo piede quindi un modello organizzativo che è il vero il vero strumento per andare ad intervenire per tempo io ho terminato la parte di esposizione e quindi direi innanzitutto di ringraziare Luciano Tarantino per la sua graditissima partecipazione quindi grazie mille Luciano per essere stato con noi grazie a voi di avermi invitato t'ho preso in parole quindi ti tornerò a disturbare molto prima che tu te lo aspetti per cui non avresti dovuto provocarmi non mi resta che non è riclassificato bene noi abbiamo poi questi prossimi appuntamenti stiamo approfittando di questi giorni di clausura che spero che finiscano presto per tutti anche se non sembra che sia così per cercare di mantenere il contatto con tutti voi abbiamo innanzitutto venerdì l'esercitazione di cui vi parlavo prima con Alessandro Fischetti sulla riclassificazione del bilancio del bilancio dei piani dei conti dei dati provvisori però questa volta con esempi pratici ok e il 27 marzo abbiamo un altro webinar molto interessante sempre con Alessandro Fischetti sull'analisi del portafoglio dei fornitori vista in una logica un po' diversa da quella dell'onboarding classico e della classificazione automatica e infine stiamo aspettando la fine del mese perché faremo un webinar dedicato agli aspetti del decreto cura Italia e vedendo quali impatti ci sono sul bilancio aziendale quindi faremo delle simulazioni sia su singoli casi che su settori che sono ahimè più esposti alla mancanza forzata di fatturato e soprattutto cercheremo con degli ospiti esperti di entrare nelle pieghe delle varie procedure che sono necessarie per esempio per seguire le moratorie per applicarle e cercare di capire quali effetti può avere applicare richiedere una procedura piuttosto che non richiederla ok quindi vi invito naturalmente a partecipare vi ringrazio se avete voglia di mandarci un piano dei conti come esempio lo guardiamo sicuramente e magari non ne facciamo oggetto o di una demo personalizzata oppure anche dell'analisi dell'esercitazione di lunedì non aggiungo altro ringrazio tutti per la partecipazione riceverete il documento e la registrazione nelle prossime ore grazie da Stefano Carrare grazie ancora Luciano Tarantino buonasera grazie a voi a presto vi vedete grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi